buonasera a tutti sono leonardo frequento la sala di mentrisio da parecchio tempo praticamente da quando c'è il poker sono felice di fare tornei che fanno qua ma diciamo che sono più da holdem perché gioco da tanto tempo a holdem lo ma è da pochi anni che lo gioco e comunque mi piace tantissimo è un torneo che ho praticamente dalla prima edizione dal lugano diciamo che l'ho giocato ho fatto anche un terzo posto in questo torneo qua purtroppo mai un primo però sempre con dei piazzamenti mentre diciamo le mie preferenze rimangono sempre sull'holdem perché diciamo ho approcciato subito da lì dall'inizio e quindi preferisco l'holdem però diciamo che ultimamente devo dire che l'Omami mi intriga tantissimo la soddisfazione specialmente quando prendi questo qui direi proprio di sì l'anno scorso è stato un bel torneo l'anno scorso ho fatto un buon piazzamento la struttura si sa è bella e niente quest'anno speriamo di diciamo andare più avanti dell'anno scorso grazie